Gocce magiche, date l'energia all'occhio di papà. Quando la mamma è morta io stavo lì. Stavamo lavorando, quando sento un rumore improvviso, lo guardate negli occhi e non respiravo più. Non ti preoccupare, papà mi ha detto che mamma ritorna. Solo queste ci date. Vado che siamo in due. Sì, via, vai, 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 vai. Maia, forza, dammi la mano. E' il tuo che hai fatto all'occhio? Spaccavo le pietre in una capa e avevano scheggiato. E da quel giorno il suo occhio è diventato tutto bianco e ha iniziato ad avere superpoteri. Era duro il mestiere di spaccapietre. E' il genocchio.